Finalmente si parte al via la Serie A 2023-2024 nella prima giornata all'Atalanta e attesa al MAPEI Stadium, città del tricolore di Reggio Emilia, dove affronta il Sassuolo. E la prima occasione proprio per i nero-verdi con l'Oriente che scambia dalla bandierina e calcia sul primo palo. Attento, Musso, che compie la prima parata della sua partita e mette in calcio d'angolo. Un minuto più tardi sugli sviluppi di corner è pericoloso, invece l'Atalanta con Kopp-Miners che raccoglie, calcia! Il tiro viene salvato però sulla linea da Erlich. Ed è ancora Kopp che inventa il minuto numero 32 splendido, il pallone per Duvan, delizioso l'aggancio del colombiano che calcia sul primo palo. Attento, in questo caso consigli. Su un altro calcio d'angolo l'Atalanta va ancora vicinissimo al gol, la deviazione di un difensore del Sassuolo e Maxime Lopez a salvare, questa volta, sulla linea di porta. 0-0 nel primo tempo nella ripresa, entra anche Charles de Quetelare, fa il suo esordio in Nerazzurre, sarà un grande esordio. Prima però è l'Oriente a impensurire di nuovo Musso, il pallone scheggia la traversa e va sul fondo. Dicevamo di Charles de Quetelare, passano solo 4 minuti per la sua prima occasione, comincia a trovare l'intesa con Matteo Ruggeri, il suo colpo di testa però dopo essere rimbalzato in terra, termina alto. E al 63esimo va ancora vicinissimo al gol, la CDK sull'iniziativa dell'altro, nuovo volto, Atalantino Gianluca Scamacca, sinistro da Alberga che colpisce una clamorosa traversa. Sfortunato anche in questa occasione Charles, ma avrà modo di rifarsi nel frattempo, però l'Atalanta ci prova anche con Ederson che raccoglie il pallone al limite dell'area di rigore, calcia con l'esterno, il tiro impensurisce consigli ma termina alto. E arriviamo così al minuto numero 83, minuto del meritato, vantaggio a Tarantino Cross, perfetto di Ruggeri per la testa di Charles de Quetelare, consigli salva, ma il pallone ha già barcato la linea di porta e 1-0 per l'Atalanta, il primo gol in Serie A e in Nerazzurro per CDK. De Quetelare corona così una splendida prima partita in Nerazzurro e suo, il primo gol stagionale dell'Atalanta. Per l'Atalanta entrano anche Adopo e Zortea che sono decisivi nel terzo di recupero, il 25 allarga per l'esterno che carica il destro, infila il pallone nell'angolino dove consigli non può arrivare e firma il 2-0 dell'Atalanta, super gol di Nadir Zortea. Buona la prima per l'Atalanta che nel giorno anche della trecentesima partita in Nerazzurro di Martin Deron batte il Sassuolo per 2-0 e può festeggiare i primi tre punti della stagione davanti a un gremito e caldissimo settore ospiti.